Consolini pronti? Ma voglio vedere anche il missile! Ma che casino che fa da vicino! Ma sei pazzo? Era un po' assurdo! Cioè ma, io così vedo anche i player No, hanno sbagliato Hanno sbagliato e troppo forte Hanno sbagliato e troppo forte Però è un tempo limite, eh Sì, certo, adesso esplode Ma mi sono fatto metà mappa Allora, la scia ha cambiato colore Ha cambiato colore? Ah, e oltretutto è cambiata anche la rarità di fucile a pompa Esatto, ne parliamo durante il game Ne parliamo durante il game che adesso iniziamo a pensare a giocare Steph! Punta! Un ruore strano! È vero È vero, è vero Ogni tanto ci sono queste aggiuntive Dove si trova il nuovo tesoro? Non abbiamo cartone missioni! Ricordatecelo dopo questa missione la controlliamo Cavolo, c'erano talmente tante cose che le ho dimenticate Ok, ma ti sei già lanciata te? Sì Ok, andiamo Opla Le bandierine zentrano Non avevo pensato a Twitch Perché io l'ho collegato la con per prendermi le altre skin Che nonostante non utilizzi Però una delle due ha un backpack troppo bellino Quindi me l'ho presa solo per quello Ahi Eeeh Ah? Sto leggendo qualcosa riguardo lo zoom Consolini, cosa vuol dire che si può zoomare? Scusatemi Cioè le abbiamo anche lette le cose nel forum Perché? Io ho letto tutte le patch notes Guarda, anche la mappa è cambiata un po' Si può zoomare la mappa! E infatti è molto dezoommata No, ma Anche quella? Guarda! Oh mio Dio Bello Bello Questo infatti dovevano metterlo Questo è utile L'ho sempre pensato che sarebbe stato utile E ce l'hanno messo Però guarda anche la minimappa La vedi che è cambiata? Guarda a boschetto Guardala nella minimappa Ah, è molto più brutta È molto più brutta Sì Non lo volevo dire però sì Beh, non c'è dubbio Guarda Non c'è dubbio Hai visto player? Perché noi stiamo pensando No, sinceramente Però mi sono già presa un fucile a pompa Io sinceramente speravo che questa pace mi sistemasse E i calo di FPS Non lo hanno fatto Dovrò trovarmi una soluzione Io assolutamente Perché è osceno quanto scattiamo Però pazienza Sono cambiate le cassettine di munizioni È vero È cambiato il colore Consolini, consolini, consolini Prima di tutto Grazie mille alla donazione di Filippo Tomeini Fate pixel arc con TheLongamer Scusate per brutta scrittura Non me lo mandava No, attualmente stiamo collaborando soltanto con Lion E lo so che ci chiedete sempre di Lon e Despi Ma se non collaboriamo con queste persone c'è un motivo Non stiamo lì a parlarne troppo Però Non ci sentiamo più da mesi C'è un motivo per tutto Mettiamola così, consolini Alla fine ci si trova male Succede qualcosa Non si collabora più Non si collabora più Quindi diciamo che al momento ci vedete far video soltanto con Lion Salvo poi nuovi youtuber con cui ci mettiamo in contatto E facciamo qualche video Hanno ricambiato le texture comunque anche delle cose che si tengono Quando sono a terra È ricambiato un pochino Ok E sembrano migliorate un po' Ci sono un po' di cambiamenti generici Grafici ovviamente Ma li fanno sempre In queste patch un po' più grosse le fanno sempre Poi vi volevo raccontare Hanno cambiato le rarità dei fucile a pompa E adesso sono un casino Sono un casino Perché il fucile verde che vi vedete mio tattico In realtà è blu E così vi intrippo E dite Steph ma che cavolo stia a di? Hai mangiato qualcosa di brutta a pranzo? Che cavolo stia a di? Invece praticamente adesso il fucile è quello che spara un solo colpo Quello classico vecchio Sarà verde e blu Non ci sarà più bianco Infatti Roppe l'ha trovato verde Mentre il tattico si potrà trovare da bianco fino a blu e non c'è più viola Li hanno bilanciati in questo modo qua Non cambiano i danni però In proporzione il blu tattico e il viola tattico scorso È un po' difficile da capire però vabbè Sì c'è questo cambiamento interessante Ci si dovrà abituare Quindi teoricamente il mio tattico in questo momento è quello blu del prepatch Quindi un buon signor pompa Spero sia così Perché poi se è diverso è un casino ancora più grande Però credo che ne avremo conferma a breve Quando nel caso troveremo il tattico bianco che non si è mai visto Oppure l'altro blu che non si è mai visto E infatti guarda Il vecchio fucile a pompa che è blu Rarità blu non si è mai visto Quindi andiamo a confermare Ce lo prendiamo pure Vabbè visto per festeggiare il nuovo pompa così E infatti a fianco viene da ridere il tattico bianco Vedete hanno fatto questo aggiornamento Ma che brutto l'ho appena trovato io bianco Sembra scarsissimo Che poi in realtà è il verde vecchio Che l'ho visto e ho fatto Ma che accidenti è Che brutto Ok questo verde Che scattini Quindi che cosa strana Ci si dovrà abituare un sacco sta cosa È strano pensare che il verde in realtà è il vecchio bianco Sì stranissimo Stranissimo Delirio Delirio Ok Assolutamente sì Nel mentre siamo a 10.500 Quindi grazie mille a tutti quelli che ci sono Grazie a tutti Ovviamente l'obiettivo di questa live raga è trovare la nuova arma Mi sparano mi sparano mi lanciano missili Ma sei pazzo sono uscito dalla casa Io non vorrei che sia il nuovo missile eh Anch'io Vorrei vedere Che cosa hai caro Aspetta che ti uccido No mi sembra lanciare a Z classico comunque Ci sto anche morendo cercando di capire cosa lancio Ok ha pochissima vita E uno o due Boh per ora uno Steph A terra Morto Accidente a te Ho fatto scendere un colpo Occhio eh non so dove l'amico Sì sì RPG classico Ci ho sperato Sì sì infatti Mi sono affacciato solo per vedere Per cercare di capire che fosse Vedi l'amico No per niente Ok Io ero tranquilla Convinta che non ci fosse nessuno Oh ma quanti scillini avevi Mi hai finito i razzi Maledetto Io ne ho Quattro Steph Ok Meglio di niente Allora aspettate che Devo ricambiare direzione di questo Se no poi mi dimentico Io non so dove è l'amico lui eh Amico dei player appena morto Amico Oh Steph non lo vedo Verò Io comunque continuo ad andare in giro Solo Becco ti avviso che ti devo dire Ok Facciamo così Avresti anche spazio per gli scillini Ma non so se farti venire qua Solo per quelli Non so Ho pochissimi mazza Accidenti Ok mi stavo confondendo su una cosa Eh vabbè Non so dove è il tipo Ma pazienza Anche io non ho molti mazzo Io volevo finire di lutare al volo Per andarcene Anche io Ci ho sperato fosse la nuova arma Ascolta Steph Anche io Cioè pensa che ho preso dei colpi Perché mentre li tirava Mi sono affacciata Per vedere se Come li stava lanciando Se stava facendo qualcosa di strano Di particolare Invece purtroppo no Avevo già notato Che era un normale Lancia missili Sarebbe stato epico Primo game Instant Sarebbe stato epico Ci sono scillini nel soggiorno Vai a prenderteli Ascolta Steph Dimmi Con i fucili d'assalto Come si è messo? Cioè che hai trovato? Ho un M16 verde Perché io ce l'ho bianco Quindi se trovi Oh razzi Perfetto Ok cercherò di ricordarmelo Le M16 citati con un nuovo bianco Inguardabile Trampolino Hanno aumentato di nuovo Il rate del drop Dei trampolini Di un altro 25% Quindi Steph Inizierà a trampolinare Da una parte all'altra Cecchini e trampolini Sono le cose Che vedrete da Steph In questo periodo Allora vediamo Un po' di fortuna qua E Fere? Ok For me? Sì Ok grazie Cosa c'era? Che non ho visto Va un po' a verde Ok Quindi ho fatto io a cambio Sì ci sta ci sta Hai visto anche le cassettine Sì le notate? Sì 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 Carine anche quelle Mi piacciono di più Erano un po' scure Secondo me sono più visibili Così lo sai? Perché il giallo ti dà nell'occhio Invece prima rischiavi di perdertelo Allora Casa ai mattoni Qua di fronte a noi Nel mentre siamo quasi a 13.000 Quindi grazie mille a tutti Ovviamente stiamo cercando la nuova arma Non sarà facile trovarla Perché si può trovare soltanto In chest ed airdrop Quindi Non è banale A caccia di airdrop Cosa interessante Può essere soltanto la nuova arma Epica e leggendaria Quindi parecchia rarità A livello di rarità E fa Fare questo non lo sa E questo è quando l'hanno fatta? Oppio eh Perché ci manca ancora un tipo La lascia perdere Tanto nel caso è lootata Quindi Non ci interessa un gran che Magari c'era qualcosa avanzato Non so quando l'hanno fatta Ho appena detto Le cassette di munizioni qui sono visibili E non rischiate di perdervele La cassette di munizioni chiuse Non le vedono lo stesso i player Vabbè Meglio più munizioni per me Ok Ehm Se mi dai le munizioni dell'RPG Poi possiamo andare Sì te l'ho presa anche altra ora Nelle cassette Perfetto Quindi E quindi vi stavo dicendo Fa 105 se ricordo bene Di danno Quando è epica La nuova arma E 110 Quando è leggendaria E va più lenta Di un razzo normale Quindi credo sia un po' più facile Da schivare E mentre state utilizzando Il razzo telecomandato Non vi potete muovere Quindi teoricamente È un po' pericolosa Come arma Credo che Steph Quando la proverà morirà Prevalentemente Mi aspetto che andrà in questo modo Un po' come quando si provano Le cose nuove Che non capisci bene Però sono curiosa E airdrop di fronte a noi E lì dentro ci può essere Quindi andiamo assolutamente Ho quasi 400 mazzi Che già non è più malissimo Io pochi Quindi let's go E vediamo un po' Nel mentre siamo solo in 29 Not bad eh Se ci vinciamo il game E troviamo l'arma E ammazziamo qualcuno con quell'arma Sarebbe bellissimo Lo chiamerei il perfect match Della giornata Poi ovviamente io vorrei giocare A nuova moletà Più di trovare la nuova arma Però Una cosa alla volta Un player alla sinistra E hanno rotto un albero alla destra Quindi o sono entrambi Un pochino splittati C'è qualcosa di strano Sopra quella montagna Credo sia del pass battaglia Ok Un simbolo strano Comunque dicevo Ci sono minimo due players Non due team Quindi quattro player Ok Sopra quella montagna Non so che cavolo è L'hai visto? Alla sinistra Non lo vedo Aspetta Uh Boh Non so Sì sicuramente qualche sfida Che ancora non l'abbiamo lette Ho mancato terribilmente Perché lo stavo avendo sparare Ah sparava l'air drop Ok Ok Come va? Mi riparo Ok Sembra che vogliono andare Lì Colpito Gli ho tolto un po' di shield Colpito ancora Steph Ok Ucciso Sta pensando solo a me infatti Perfetto Ma che nome aveva? Eh vabbè Ma ha scritto in giapponese Non me lo impi Sto scattando Sì 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 Sto scattando Sì 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 Devi risolvere Steph 39 raggi Oh questo però me lo merita Questo me lo merita Raga l'air drop Ciao Occhio Fere Sì mi stavo cambiando il fucile E' sparito l'air drop Forse l'hanno aperto No l'hanno aperto sicuramente Magari mentre stavamo combattendo L'hanno aperto Sì ma Dove? Non so Non capisco È strana sta roba Mi prendo un po' di munizioni qua Steph Ok Perché sono sempre comodo È pieno di cassettine È pieno di munizioni in giro No raga Fere Sta fluttuando l'air drop Ma che cavolo è successo? Ma che cavolo succede? No vabbè Mi sembrava strano Oh lì c'è la nostra arma Scendine Secondo me anche se Non dire scendine Secondo me anche se buco Rimane lì eh Dai vediamo Vediamo Scompasso Dimmi che è per terra Cioè per fort Ok sì 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 Mi è sceso un colpo Ho detto che si scappagliano pure Guarda lasciamo perdere Mi stavo già rabbiendo tantissimo No Avete visto tutti? Non siamo pazzi L'avete visto tutti vero? Perché? C'era l'arma no Mi può trovare? Sto volando Sto volando il loot C'è la nuova arma C'è la nuova arma che vola Oh mio Dio Oh mio Dio Io non lo vedo Che vola Ma che succede? Preso Non ci Raga che cavolo succede? Ma che sta succedendo? Che cavolo succede? Non ci credo Sto ridendo Sto ridendo malissimo Allora Posso sparare un colpo? Al primo game Ma sei pazzo Però nel mentre Tu sei qui Steph Attaccabile Sei qui Attaccabile Quindi deve essere anche compito Del compagno In questo caso mio Proteggerti È fantastico Raga Cioè Tutto quello che volete Ragazzi è fantastico Bellissimo Bello Poi ci credo Primo Bello Che fortuna Fantastico Appena finisce il game Ovviamente leggiamo tutte le donazioni Però adesso ci concentriamo su game Anche perché siamo solo in 13 Steph Voglio anche la vittoria Oh mio Dio Che cosa fantastica Nuova arma e pure vittoria Aspetta che non mi piace la zona Vabbè per ora scendiamo da qua Non mi piace avere la montagna alla destra Ma pazienza Vedo la chat che sta impazzendo Ragazzi È fantastica È fantastica questa arma Ma io la sapevo già Quando ho visto quel video Ho detto no Sta roba sarà fantastica A 75 gradi Ho visto una costruzione Che stanno facendo in questo momento E mi è sembrato di vedere due player Ok Guarda io spero In tutti i modi possibili Che eviteremo il fight a pompa In questo match Perché io sto scattando troppo Cioè Ho paura di fare un fight A pompa Ma è peggiorato Sì 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 Rispetto a ieri è peggio Non è meglio Bosta Non so Spero di evitare fight da vicino Perché ovviamente Dà molto più fastidio Quando scatta da vicino Ma non so Ma ti ripeto Mettiti qualità bassa Si vede un po' peggio Ma magari E vabbè No dopo 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 Fallo però E non mi aspettavo Fosse di tu l'ha peggiorato Capisci No se sta peggiorando fallo Pazienza dai Ma scusate Secondo me No Steph Dobbiamo sperimentare No Steph Allora Io mi piazzo qua Fatti una base abbastanza vicina Ma non nel mio stesso punto Ok Io non ho tanti materiali Quindi Ma faccio piccolina Giusto per stare riparata Ok Ovviamente Guardami tutto intorno Certo Consolini pronti Ma voglio vedere che missile Ma che casino Che fa da vicino Ma sei pazzo Era un po' Tassurdo Cioè ma Io così vedo anche i player No hanno sbagliato Hanno sbagliato È troppo forte Hanno sbagliato È troppo forte Però è un tempo limite Sì certo Adesso esplode Ma mi sono fatto metà mappa Cioè Mi sono fatto metà mappa Posso scautare tutto È forte come Steph Cioè io adesso Ah dove sono i player E sparo anche da questo lato Ma tu non hai idea Vicino a me Steph il boato Che fa Lo so lo so Lo sento Mi devo fissare Abbassare il volume È fortissimo Voglio una kill C'è gente in casa Toc toc Boom No entra anche dalle finestre È illegale È illegale Fantastico Sei player vivi Sei player vivi E noi è il tempo che proviamo razzi Però Non si può non provare Ne ho 41 Ma che me frega Guarda in questo momento Ok Continuo a scautare Vado Vai Steph Vai Che caos Vediamo un po' Playerini Siamo Contro tre player E oltretutto vedo La tua vita Noi esploriamo in giro Con i razzi E la gente muore Nel mentre Vabbo Vabbo Che poi vedo La tua scrittina Sul razzo Quindi ti vedo Steph che va in giro Per la mappa La tua scrittina Tra bella Sì Dove sono? Lì hanno billato di più? Andiamo a vedere Due contro due Nel mentre Ma davvero? Ma dove stanno morendo? Ma che game è? Quanti kill hai tu? Una Una pure io Ma che c'è frega Ma che c'è frega Proviamo l'arma Abbiamo trovato il nuovo lanciamissili Eccoli Guarda c'è Io so adesso dove sono loro due Sono lì in fondo Ma ti dai Troppo forte ragazzi Cioè so esattamente dove sono Cioè se sei ben riparato Com'è Steph adesso Niente che ti toccano Perché scommetto che comunque Sì sei colpibile totalmente Però Abbiamo già visto dove sono Dove sono Steph? Dillo per chi non è razzi Guarda ti faccio vedere Ti ci porto Perché Portami Steph Devo descrivere Allora Sono sotto di me Adesso li posso citare Ok La costruzione è lì Io ovviamente tengo il raggio alto Così loro non mi vedono Adesso scendo di quota Dove sono finiti? Li vedi? Sì 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 Ok loro non capiscono Loro non capiscono Raga li ammazzo così Ve lo giuro che vinciamo il game Con una kill di questi Dai sarebbe bellissimo Ve lo faccio Ve lo No comunque Devo Cioè Oggi devono mandare offline Il server E devono togliere quest'arma Perché hanno sbagliato qualcosa Va fixata Assolutamente No devono Hanno sbagliato qualcosa Ne farla Dove sono finiti? Ah non lo so Sono scappati Eh sì Amici Vogliamo farvi esplodere Guarda Guarda il mio schermo A fare Lo guardo No Era in mezzo agli alberi Cavolo Uh li vedo costruire comunque Ok Ma diranno Ma che succede qui Ma che stanno a combinare Se non hanno mai visto l'arma Soprattutto Li vedo scappare Scappare dalla loro costruzione Boom Ma l'hai preso? Sì Non fa È un cheat sta roba È un cheat Non è un'arma Devo distruggere un albero Per vedermi la scena Io non so che dirvi Io non so Cosa devo fare Vincere con il staff Guardate Boom Una terra Una terra Una è andato Ora manca l'altro Ma cosa c'è? Non sto giocando Scusa Steph La cattiveria e l'accanimento Ma voglio vedere Mi sta arrivando uno in base Uno in base Steph Davvero? Sì sento fatti L'altro l'ho fanacchilato L'ho ucciso Mi stava arrivando in base Mi sono girato Gli dato un colpo di colpa in faccia Io non so cosa dirvi Io Primo game della giornata Trovata l'arma Vinto anche se in modo strano Ma quest'arma è davvero Troppo 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 Io lo dico Devono mandare offline Il gioco E togliere l'arma O cambiarla Perché così no Così Cioè Io adesso sto rirendo Ma se ce l'avevamo contro Cosa fai? Poveraccio Quello che hai detto Cosa fai? Io lo vedevo Che lui si guardava intorno Certo Io che lo so Se ce l'ho contro Buildo Ma fino a un certo punto A parte che ti scoutano Ed è un vantaggio incredibile Perché combini quest'arma A un cechino E sei oversgravo Stef Te ne vai in giro Anche se solo vedi la posizione degli altri È un vantaggio enorme Ma Grazie a tutti.